E' l'occupazione. Adesso non riusciamo a far passare le punze oltre la quale quanto si andasse è necessario il principio di socialità tra gli Stati e sulla base di quel punto di vista sociale è un fatto che produce tensioni e di problemi. Quindi noi proponiamo, anche se personalmente non ritengo troppo l'occupazione che supera quella strutturale di cui è giusto che si occupi di ricerca anche sulla base dei dati tecnici del punto di ruolo dei centri per l'impiego. Qui ci sono differenze enormi tra paesi e paesi. Di discutere dei centri per l'impiego in Italia faceva riferimento. La differenza per noi da fermare è che nel certo punto delle differenze di popolazione è evidente che se vogliamo, giovani sì, non è vero quello che direi sui giornali.